Il prossimo intervento avremo Gianluca Bonissoni, General Manager di PHC Advisory Tax Accounting. Gianluca, buongiorno, che ci parlerà degli aspetti fiscali nella giurisdizione vietnamita. Dopo la laurea in Economia, Gianluca ha conseguito un Master in Corporate Finance presso l'Università Bocconi di Milano. Ha lavorato in Cina per oltre otto anni, ricoprendo posizioni manageriali in società leader di consulenza fiscale contabile a livello internazionale. Quindi oggi ci aspettiamo un'introduzione da parte tua proprio su quali sono le caratteristiche e i vantaggi fiscali di questo paese, il Vietnam. Grazie a te la parola Gianluca. Grazie, grazie Veronica. Ringrazio anche tutti quelli che mi hanno preceduto a partire dalla sua eccellenza l'ambasciatore Alessandro. Ovviamente anche il collega Carlo Fabrizi che ha prospettato delle soluzioni di investimento. Hanno entrambi prospettato insieme a Guet delle soluzioni di investimento estremamente favorebili, vantaggiose, prospettive veramente interessanti per l'azienda italiana. Adesso tocca, come sempre, anche all'aspetto fiscale, imprescindibile anche in Vietnam. Ma voglio iniziare a questo intervento dicendo, insomma collegandomi anche un pochettino a quello che ha anticipato il collega poco fa, insomma sintetizzando che ci sono forti incentivi proprio per attrarre nel paese non soltanto aziende ma anche i talenti. Quindi non andremo, non ci addentreremo nei dettagli, ma sicuramente quello che voglio presentarvi è anche questo tipo di opportunità. Dunque, tasse sì, ma anche benefici. Io sono Gianluca Bonissoni, come Veronica Grazzi mi hai presentato, general manager di PHC Advisory, società del gruppo DDP che si specializza nell'assistenza tributaria e contabile a favore delle aziende che si internazionalizzano anche verso il Vietnam, così come in Cina. Brevemente voglio offrirvi una panoramica sugli aspetti principali, ovviamente fiscali, che insistono sul paese, che in linea di massima possono essere sintetizzati nella dicotomia che già conosciamo tra imposte dirette e imposte indirette. Chiaramente ci sono dei fattori che insistono anche sulle operazioni trasfrontaliere, quali l'importazione e l'esportazione, quindi i dazi, e dazi che possono essere agevolati alla luce di quegli accordi come sono stati citati prima dall'ambasciatore Alessandro, numerosi che sono stati stipulati dal paese stesso verso altri paesi e altre imposte specifiche, ovviamente locali. Le principali imposte dirette che sono molto simili a quelle che già conosciamo anche in Italia sono per le aziende la corporate income tax, assimilabile alla nostra IRS imposta sui redditi societari, e la cosiddetta personal income tax, assimilabile invece alla nostra imposta sui redditi delle persone fisiche, di IRPEF. Per quanto riguarda le indirette invece abbiamo la value added tax che possiamo assimilare per approssimazione alla nostra IVA, imposta sul valore aggiunto. Come anticipato ci sono sì delle imposte, ma le autorità viettramite, l'autorità fiscale viettramite, il governo insieme lavorano per offrire delle condizioni quanto più vantaggiose per investitori stranieri che sono interessati a operare nel paese e quindi offrendo degli incentivi fiscali piuttosto che delle esenzioni a seconda delle circostanze proprio per favorire la crescita delle proprie attività economiche attraverso anche gli investimenti da parte di aziende o individui stranieri. Tra quelli più importanti, come citavo il collega Pocanzi, figurano sicuramente delle aliquote preferenziali ad esempio della corporate income tax, quindi ridotte rispetto alle aliquote ordinarie, piuttosto che esenzioni di dazi doganali all'importazione in tali casi e degli incentivi ad esempio sulle locazioni vere e proprie. Le vedremo con calma. Partiamo dalla prima che è la più importante per le aziende, appunto la corporate income tax, abbiamo detto assimilabile alla nostra IRS. Nel suo funzionamento è molto simile perché appunto parte dall'importo totale del fatturato al netto maggiorato di eventuali altri redditi e diminuito invece delle spese ammesse in deduzione, quindi rilevanti e delle perdite riportabili a nuovo, quindi le perdite pregresse fino a 5 esercizi precedenti. Quindi come funzionamento è molto simile. A questo reddito imponibile viene applicata un'aliquota che in misura standard appare al 20%. In Italia, se vi ricordate, invece è leggermente più alta. In più c'è l'IREP. Quindi da un punto di vista generale, l'imposizione fiscale diretta della corporate income tax è leggermente vantaggiosa. Ci sono delle circostanze in cui questa aliquota può essere ridotta o addirittura esentata, le vedremo fra poco, e la durata di queste agevolazioni, come diceva giustamente il collega, può essere anche per l'intera durata del progetto, ma nella maggior parte dei casi è limitata dai periodi iniziali o dei periodi nel caso in cui si tratti di aliquota ridotta, per esempio da quando inizia il periodo di profittabilità della società. Quindi sono dei periodi specifici, a seconda anche dei progetti, della localizzazione dell'investimento e così via. Ecco infatti che vediamo in maniera un pochettino più specifica qual è il funzionamento di queste agevolazioni, di queste aliquote piuttosto che esenzioni, aliquote referenziali, pardon, piuttosto che esenzioni. Se partiamo dall'ambito di applicazione del settore di investimento, quale può essere l'alta tecnologia che è stata richiamata poco fa, l'automotive piuttosto che l'abbigliamento o le calzature, è prevista un'aliquota preferenziale ridotta al 10%, quindi ridotta del 50% per 15 anni, includendo nel periodo anche un'esenzione fiscale per i primi quattro anni, dicevamo prima, in cui la società è profittevole, inutile, seguita da una riduzione del 50% per i successivi nove. Nel caso in cui invece il settore di investimento sia educazione, formazione, sanità, piuttosto che sport, cultura e ambiente, ancora una volta parliamo di green, l'aliquota anch'essa è prevista in maniera ridotta del 50%, quindi pari al 10%, ma non sono previsti al momento, salvo che così stanno altri fattori, o comunque in linea di principio, delle esenzioni vere e proprie per dei periodi iniziali. Per quanto riguarda gli investimenti nell'agricoltura e attività connesse, invece l'aliquota ridotta è del 15%. Ci sono poi delle agevolazioni che rilevano, in ragione della localizzazione dell'investimento, e in particolar modo parliamo di aree con condizioni socio-economiche particolarmente critiche, zone economiche speciali, oppure zone high-tech, o green nel caso in cui appunto ci sia, insomma, oppure green. Anche in questi casi, adesso non voglio fare un escluso troppo specifico, però per darvi l'impressione che, a seconda di quale genere di investimento, dove e soprattutto di che dimensione stiamo parlando, possono essere applicate, possono trovare applicazioni delle agevolazioni fiscali importanti, sia in termini di aliquota applicate, sia in termini di periodi di esenzione dell'imposta stessa. Per quanto riguarda le imposte dirette, passando invece sul versante delle persone fisiche, rileva la cosiddetta personal income tax, appunto, abbiamo detto, assimilabile all'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche in Italia, che viene liquidata sul reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta. Tradizionalmente i soggetti passivi dell'imposta sono i soggetti residenti, c'è una dicotomia tra soggetti residenti e soggetti cittadini vietnamenti. Ad ogni modo, se facciamo una breve panoramica su quella che è l'imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, ma così come su tutti gli altri redditi in linea di principio, questo segue il meccanismo che conosciamo, ovvero un'eriquota progressiva di imposta per scaglioni di reddito. Parte dal 5% sui redditi minori e arriva fino al 35% per i redditi sopra i 3.200 euro al mese. Tuttavia, sono previste delle deduzioni dell'imposta per la determinazione dell'imponibile. Queste deduzioni sono in misura fissa, quello che vedete in alto a sinistra, il Family Relief, circa 400 dollari al mese, concesso in maniera, insomma, statutaria. Sono concesse delle deduzioni per i versamenti agli istituti di carità, insomma, agli enti, mi spugge il nome in italiano, scusatemi, piuttosto che i pagamenti delle social insurance e così via. Sono previste anche delle esenzioni per determinati benefit specifici previsti dalla normativa locale. Viceversa, se non previsti, invece sono assimilati a reddito imponibile e dunque soggetta di imposta. Tra questi, voglio segnalarvi, ad esempio, le spese relative alla relocation e quindi dello spostamento piuttosto che da un paese straniero in Vietnam piuttosto che dal Vietnam a un paese straniero. Sono previste, sono esentate dall'imposta anche quegli importi che sono concessi sia in natura sia cash, quindi in maniera monetaria per l'avviamento piuttosto che per i pranzi piuttosto che per le spese telefoniche e così via o addirittura i voli da e per la propria il proprio paese di origine. Quindi ci sono delle è possibile strutturare per esempio i pacchetti salari in maniera interessante. Da questo punto di vista conoscere la possibilità di farlo è sicuramente un vantaggio poi realizzarlo è sempre necessario affidarsi a dei professionisti ovviamente per strutturare in maniera corretta e soprattutto conforme alla normativa locale. Brevemente esiste un'imposta con la quale facciamo fatica a trovare delle assimilazioni alla normativa italiana che è il Foreign Contractor Tax. Di fatto è un'imposta che viene assolta mediante ritratta alla fonte e trova applicazione sulle operazioni relative all'attività economiche condotte con soggetti vietnamiti o in Vietnam. L'aliquota cumulativa cioè l'imposta di per sé incorpora due componenti sia l'imposta sul valore aggiunto la VIT che abbiamo visto prima sia la Corporate Income Tax e l'aliquota dipende dalle attività economiche interessate insomma rilevanti va dallo 0,1% ad esempio sullo scambio di titoli al 15% nel caso invece delle royalties. Il meccanismo di liquidazione dipende dai soggetti interessati e dalla tipologia di operazioni. Se ci sono domande specifiche rispondo magari dopo non voglio essere non voglio dilungare ulteriormente su su aspetti un po' troppo specifici. Chiaramente anche in Vietnam sempre all'interno di un inquadramento OXE troviamo circa 80 accordi con altrettanti paesi per l'eliminazione delle dopoimposizioni questo perché il paese applica delle ritenute alla fonte sulle operazioni ad esempio di distribuzione pardon sull'operazione di distribuzione di dividendi nessuna ma sul pagamento di interessi di royalties o di servizi tecnici invece vengono applicate le ritenute le aliquote sono quelle che vedete nel senso che per le società non residenti gli interessi sono viene applicata una ritenuta del 5% per quanto riguarda le royalties del 10% per i servizi tecnici invece del 5% chiaramente queste se non vengono ridotte in virtù di un trattato esistente tra il Vietnam e il paese di destinazione di questi di questi plus finanziari per quanto riguarda le imposte indirette per quanto riguarda le imposte indirette la principale è sicuramente la valore del tax ovvero l'imposta sul valore aggiunto che nel regime ordinario ha un funzionamento simile a quello che conosciamo in Italia ovvero di compensazione tra imposta a debito e imposta a credito e di versamento di imposta così liquidata l'aliquota standard del 10% può essere ridotta in caso appunto i servizi riguardino attività relative insomma servizi essenziali piuttosto che addirittura l'aliquota può essere dello 0% su quelle attività su quei servizi specifici quali trasporti sui beni o i servizi esportati e così via alcuni specifici nel caso invece di un regime applicato ai piccoli contribuenti l'aliquota dell'imposta del 10% viene assolta in maniera diretta quindi senza il meccanismo di compensazione non possiamo parlare di imposte senza parlare anche di dazi come dicevamo prima trova un'applicazione normalmente all'importazione e non sono le uniche le unici e dazi non sono le uniche imposte che vengono applicate in questa fase ma potrà avere applicazione anche la cosiddetta special sales tax che è un'imposta diciamo sul lusso la vediamo più specifica più avanti è importante però in questo momento capire che come anticipato prima il via tram ha una vocazione fortemente internazionale e in questo momento lo notiamo nel fatto che ha stipulato diversi accordi di libero scambio sia a livello regionale appunto con l'ASEAN e in particolare in qualità di membro dell'ASEAN con la Cina appunto troviamo l'ASEAN-Cina-China free trade area e l'accordo di libero scambio invece con l'Unione Europea questo che rileva ovviamente di più le aziende italiane in particolar modo l'accordo dello scambio con l'Unione Europea prevede l'eliminazione di dazi del 99% di dazi entro il 2030 torniamo alcune particolari imposte come dicevamo prima sono rappresentate qui sono richiamate qui la prima è la special sales tax che viene applicata alla produzione e importazione di determinati beni e servizi quali ad esempio sigarette liquori lotterie chiamiamola imposta sul lusso se vogliamo perché vediamo che le aliquote possono andare dal 5% fino al 150% in caso di autoveicoli ad esempio per meno di 9 persone e con cilindrate di una Bugatti vero praticamente oltre 6.000 cc c'è sicuramente degno di nota la stamp duty ovvero l'imposta di bollo assimilabile all'imposta di bollo italiana con aliquote che vanno al 0,5 al 15% ovviamente in ragione dell'oggetto dell'imposta stesso e la business license tax che invece è un'imposta che trova applicazione serie di registrazione delle società in misura del capitale registrato della società stessa e poi viene versata annualmente nelle annualità successive per quanto riguarda finalmente gli incentivi parlavamo prima anche di dazi all'importazione è chiaro che il Vietnam intende attrarre investimenti per attrarre investimenti è necessario che le società per esempio manifatturiere possano importare dei macchinari al fine di attrarre investimenti di società e manifatturiere quindi il Vietnam ha previsto delle politiche di esenzione ad esempio di quei beni importati che però poi vengono impiegati in maniera strumentale nell'azienda e costituiscono lì immobilizzazioni sicuramente beni importati che poi sono processati successivamente destinate all'esportazione anche essi possono beneficiare di meccanismi di esenzione dai dazi e analogamente perché è un paese che punta sulla ricerca e sullo sviluppo sicuramente sull'ambito tecnologico come descritto meglio dall'ambasciatore poco fa anche quei beni importati destinati per l'impiego nella ricerca scientifica produzione di software produzione di tecnologia possono essere possono beneficiare di questa esenzione un altro importante elemento di incentivazione è invece l'esenzione delle locazioni dell'affitto banalmente parlando questo trova applicazione in quelle regioni diciamo che citavamo prima ad esempio collocate in aree socio-economiche particolarmente critiche ad esempio quelle a confine con il Laos oppure nel delta del Mekong appunto inserite in un in un'ottica di sviluppo regionale queste esenzioni possono in linea di principio beneficiare possono scusate in linea di principio essere concesse per tutta la durata del periodo operativo oppure possono essere previste per determinati periodi ad esempio tra asset clinici insomma analizzate in maniera specifica qualora gli investimenti siano al di fuori di queste aree ma in settori incoraggiati quindi in sintesi sì ah ecco siamo alle conclusioni grazie scusami se ti ho interrotto ma stavamo andando un po' a lunghi sul tempo certo mi piaceva parlare degli incentivi a un certo punto quindi non volevo lasciare il nostro pubblico senza una prospettiva positiva e anche la parte interessante esatto ma in sintesi sicuramente ci troviamo un paese in via di sviluppo come dicevamo fortemente evocato ad attrarre capitali investimenti stranieri per assistere supportare il progresso economico del paese il progresso tecnologico nelle aree che sono state identificate poco fa per fare questo sono state messe a disposizione strumenti particolarmente interessanti è importante farsi accompagnare da professionisti perché è un ambiente anche normativo estremamente dinamico in fase in via di evoluzione e come abbiamo detto l'ambito di applicazione può essere estremamente specifico quindi suggeriamo anche noi di essere assistiti accompagnati da dei professionisti oltre che dalle istituzioni grazie 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 Gianluca per questa anche tua precisa e puntuale presentazione dal punto di vista fiscale grazie grazie grazie